Il ruolo degli enti locali è fondamentale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi. Solo se facciamo rete riusciamo a evitare che la Sicilia torni a bruciare. Si imponga la scerbatura ai proprietari di terreni incolti, la legge non ammette deroghe. E questo, in sintesi, l'appello che il presidente della regione Nello Musumeci ha rivolto nella direttiva per la campagna antincendi già inviata ai sindaci dei 391 comuni dell'isola e delle tre città metropolitane e ai sei commissari straordinari di liberi consorsi comunali, tutti aventi un ruolo primario all'interno del sistema di protezione civile, dice la regione. Una disposizione con la quale il governatore siciliano, richiamando i primi cittadini ai compiti loro assegnati dalla legge, mira la prevenzione al contrasto del rischio incendi boschivi di vegetazione e di interfaccia. Negli anni scorsi, e in particolare nel 2021, si legge nella nota firmata anche dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, il territorio siciliano è stato colpito da numerosi e devastanti incendi, spesso riconducibili all'azione dell'uomo o a non sufficienti misure di prevenzione. Le conseguenze sono state la distruzione di decine di migliaia di ettari di terreno boschivo e ingenti danni alle attività produttive e a beni pubblici o privati.